Sono 1.200 le corse dei treni soppressi nel solo 2012, 10 milioni spesi dalla regione per ottenere convogli per i collegamenti necessari ai lavoratori e studenti per raggiungere ogni giorno le loro destinazioni. Una contraddizione inaccettabile che ne pone lo svincolo da contratti non rispettati per qualità e puntualità dei servizi offerti. E' per questa ragione che l'Effluio Venezia Giulia dovrà dotarsi, sull'esempio della Lombardia con Ferrovie FNM, di una sua compagnia ferroviaria capace di garantire efficienza in termini di costi di gestione e di qualità dei servizi offerti ai cittadini. In questi ultimi mesi si va dicendo sempre più chiaro che il progetto della TAV, treno alta capacità, così come pensato molti anni fa, non è più realizzabile. La priorità è chiara, ammodernare le linee esistenti, rimuovendo i colli di bottiglia presenti ed aumentando velocemente ed a costi decisamente ridotti l'offerta di trasporto ferroviario della nostra regione. Così Franco Bandelli, candidato alle elezioni regionali per la regione Frui Venezia Giulia, un'altra regione. La nostra proposta prevede quindi la realizzazione in tempi rapidissimi delle opere ritenute indispensabili per aumentare considerevolmente l'offerta ferroviaria, spendendo 400-500 milioni di euro invece dei 7,5 miliardi del progetto presentato da RFI, ma soprattutto vogliamo fare un massiccio investimento nella logistica e definire finalmente il piano di trasporto regionale, per far sì che la scelta del trasporto ferroviario diventi un'opzione competitiva rispetto a quello su gomma.